Questo prodotto molto particolare è davvero bellissimo e la qualità dei campionamenti lo rendono davvero speciale. Il pianoforte preparato, abbreviato con la doppia P, ha otto principali articolazioni più due varianti. L'armonico ottenuto sulle corde con le dita, open e ottenuto smorzando la corda con un dito. Secco è ottenuto con la pressione del dito così forte che la corda non può vibrare liberamente. L'altra articolazione con due varianti è Drumsticks. Sono le bacchette di batteria su ogni corda. Drumstick è ottenuto colpendo la corda con la bacchetta. Drumsticks Roll è ottenuto con un rullo di bacchette di batteria sulle corde. Per ogni articolazione è possibile modificare il campione entrando in Edit e attivando Stretch. Questo permette di avere altri particolari effetti, allargando così le possibilità timbriche di questo prodotto. Il clavicemolo ha un suono davvero incredibile. Si possono sentire anche le più piccole sfumature della meccanica. Puoi scegliere di utilizzare una tastiera a 8 piedi oppure due tastiere a 8 piedi più 4 piedi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'articolazione sul Key Switch R10 l'ho aggiunta io. È la stessa articolazione 8piedi più 4 piedi, modificata con il time stretching. In questo modo ho potuto creare l'effetto timbrico che ho utilizzato insieme al pianoforte preparato e all'armonio all'inizio e alla fine di questo video. Anche l'armonio ha un suono unico. Sono stati campionati i suoi registri che possiamo usare in diverse combinazioni per ottenere diverse soluzioni timbriche. Anche l'armonio ha un suono unico. Anche l'armonio ha un suono unico. Anche la l'armonio ha un suono. Anche l'effettistica è stata campionata, l'articolazione percussive è stata ottenuta suonando le note senza registri, ottenendo così un effetto percussivo. L'effettistica però non finisce qui, sono stati preparati molte presets con particolari effetti che sicuramente stimoleranno la tua fantasia compositiva. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.